Il settore della produzione musicale è quello che muove più soldi in assoluto. Tutti hanno a che fare con la produzione. Artisti, musicisti, produttori, manager, tech... Cioè, è il segmento che coinvolge tutti. E quindi oggi mi rivolgo ai produttori musicali, quindi magari tu ti occupi di produzione artistica, sei un producer, o magari sei un tecnico o hai uno spazio produttivo, e fatichi ad avere continuità nel tuo lavoro. Cioè, vorresti ottenere di più, non capisci perché non riesci ad ottenere una grande continuità e stabilità economica, e quindi voglio, con questi sette punti, darti quantomeno farti riflettere su questo. Poi magari su alcuni ci centro, su altri no. Vi parlo, come sempre, della mia esperienza personale all'interno di questo settore. Mi vedete guardare verso destra è perché guardo la mia fidata lavagna, quindi punto numero uno, partiamo subito. Toppo tempo a guardare gli altri e farti pippe tecniche. Quindi ci si focalizza tanto su ciò che fanno gli altri, su ciò che hanno gli altri, su quanto certi spazi sono incredibili, oppure il gear, il trick, mi manca questo e mi manca quello, quando in realtà, come dice uno dei miei più grandi mentori, focus on the technical doing of the things, in termini negativi, quindi ci si focalizza troppo su proprio gli aspetti tecnici e si perde totalmente di vista la visione di insieme. Questo che cosa genera? Genera una grande difficoltà che noi possiamo notare proprio a definire i confini del proprio ruolo. Ora, perché è importante definire i confini del proprio ruolo? Innanzitutto per una questione di focus, ma non focus tecnico, anche focus operativo. Cioè, se noi sappiamo quali sono i confini del nostro ruolo, quindi facciamo un esempio, io sono un fonico e mi occupo esclusivamente di recording, quindi io avrò chiaro quali sono i miei confini e non solo, avrò chiaro qual è il mio ruolo. Voi dovete sapere, e questa è una cosa che io vi voglio dire, veramente è una speranza che vi possa aiutare, che tutte le persone tendono ad etichettare. Tutti noi tendiamo ad etichettare. Quindi che cosa succede? Voi, ad esempio, seguite troppo gli altri, perché gli altri vi danno un'idea chiara, vi danno la sensazione di avere chiaro qual è il proprio ruolo, qual è il loro posto, ok? E quindi, di conseguenza, creano in voi un'attrattività. Se voi non avete chiaro qual è il vostro ruolo, e io vi posso dire questo, che molte delle persone in consulenza, quando gli chiediamo, bene, raccontaci qual è il tuo, dici qual è il tuo ruolo, le persone vanno in sbattimento, ti guardano e iniziano a dire, no, allora io faccio questo, quando arriva da me un artista faccio questo, iniziano tutti a fare quel famoso technical doing of the things. Invece il ruolo è qualcosa di diverso, è qualcosa che vi permette di dare una chiarezza di intenti, ne ho parlato tanto anche all'interno del dizionario dell'autopromozione, ok? Però, se una persona viene da me e mi dice, ma qual è il vostro ruolo? Il nostro è un ruolo guida, strategico e operativo. Easy, semplice, tre secondi ti ho detto il mio ruolo. Questo avviene come? Attraverso, ovviamente, affiancamenti strategici su diverse aree che hanno come obiettivo quello di implementare, incrementare i risultati di chi vuole fare musica di professione o di chi fa musica di professione. Chi vuole fare da 0 a 1 e chi vuole passare da 1 a 2. Quanto ci ho messo? 30 secondi. Ok? Quindi questo è molto importante che voi lo chiarite, perché, se no, di conseguenza, che cosa genera? Punto numero due. Il problema della tuttologia. Nel settore della produzione sono tutti tuttologi. Voi andate in qualsiasi spazio dedicato a recording, studi di registrazione. Ormai oggi è la normalità, faccio registrazione, mixaggio e master. Per esempio, ma ho preso un aspetto di uno studio. Oppure, ambito produttivo, io faccio il producer. Tu di cosa ti occupi? Ti occupi di produzione artistica. Bene, quali sono le fasi? Che tipo di fasi tu segui? E qual è il tuo confine in queste fasi? No, finisci col fare tutto e questo genera un disastro. Un disastro perché il fatto di fare tutto, no, come scrivevo qui, non vi permette e non ti permette di avere una rete commerciale. Quando voi avete definito un perimetro chiaro, è normale che avrete bisogno di qualcuno che si occupa di qualcosa di cui voi non vi occupate. Perché? Perché non siete dei tuttologi. Quindi il fatto di essere tuttologi, fate attenzione perché, uno, siamo in un mercato di microservizi, e qua si potrebbe aprire una parentesi gigantesca. Punto numero due, la tuttologia genera questo problema che è bilaterale. Cioè, voi non potete lavorare con gli altri perché fondamentalmente sono tutti i vostri competitor, come gli altri non possono lavorare con te perché tu ti occupi di tutto. E questo non va bene. Questo si ripercuote anche su, potrei dire, sul modello di business, sul sistema di marketing. Se tu fai tre cose diverse, dovrei avere sistemi diversi di acquisizione. Cioè, è un casino. Ti complichi la vita. Quindi, punto numero tre, tutto questo, come dicevo prima, ha a che fare poi con la percezione che le persone hanno di te. Oggi tutti voi cercate specialisti. Non cercate il medico generico, o meglio, andate magari dal medico generico, ok, dal medico di base, per fare un primo screening, ma dopodiché il medico vi, in strada subito, magari da uno specialisto, vi fa fare un percorso specifico, vi dà delle medicine. E non è che ti dice, queste sono le pastiglie, prendine quante ne vuoi, o fai quello che ti pare. No, ne prendi tra il giorno, per una settimana. Cioè, ti dà dei compiti, delle istruzioni. Questo è un aspetto percettivo che voi fate caso a chi seguite. Chi seguite tendenzialmente ha queste caratteristiche ben definite, riesce ad avere una percezione, e questa è una parola fondamentale, se parliamo di business, se parliamo di lavoro, come venite percepiti, è fondamentale. Quindi fate caso a questo. Punto numero quattro, non avendo chiaro quello fino ad oggi, vedete tutta una cascata, voi non sapete respingere i clienti. E una persona mi potrebbe dire, ma come? Io voglio lavorare nell'ambito produttivo, e tu mi dici che la prima cosa che devo fare è respingere i clienti. Sì. Perché? Perché una cosa assurda, che noi continuiamo a vedere, è che le persone non qualificano. Cioè, cosa vuol dire? Che chi ha uno studio di registrazione, chi si occupa di produzione artistica, e quindi lavora con artisti, eccetera, eccetera. Se tu gli chiedi, vabbè, dimmi qual è il processo con cui tu hai a che fare con i tuoi clienti. Ah, allora il cliente mi contatta, perché è interessato, poi gli dico di venire nel mio studio e fare due chiacchi. Ma cosa stai dicendo? No, perché? Perché tu devi qualificare la persona che hai di fronte. non puoi permetterti di perdere tempo con una persona che magari non è in target per quello che tu offri, per i limiti e i confini del tuo servizio, delle tue expertisi. Quindi è inutile che tu cerchi di far venire una persona e metterla all'interno di un processo dove dovrai cercare di educarlo in quel tempo, non ti conosce, tu non conosci lui, non hai idea di quali siano le sue caratteristiche. È un disastro. Cosa finisce? Che perdi solo tempo e poi ti vieni a lagnare con Music Business Italia e lei dice eh no, perché il livello è basso. Sì, il livello è basso perché tu hai un livello basso da questo punto di vista. Ok? Quindi pensateci a questo. Dovete respingere, dovete saper qualificare. Questo genera una conseguenza che se tu non sai qualificare, quindi sono al punto numero 5, non sai direzionare il cliente. Cioè come fai a dire io voglio dare una direzione a te se tu sei il cliente, se tu sei il primo a non avere chiara qual è la tua direzione. Follia. Quindi cosa succede? Che noi vediamo le persone hanno delle strutture, delle strategie di offerta assurde. Cioè ragionano per quantità di brani, allora se fai il numero di brani ti faccio lo sconto, oppure ah, se prendi 5 giornate di studio te ne faccio pagare qua. Cioè delle strutture d'offerta veramente ridicole. Ma perché? Perché non si è in grado di seguire il cliente e non si è in grado proprio di crearti una struttura, un percorso. Ok? Noi usiamo, ci avete sentito spesso usare la parola percorso. No? Beh ma il percorso non è che funziona solo per chi si occupa di strategia. è un discorso anche per chi si occupa di aspetti tecnici talvolta. Perché se una persona deve andare magari in uno studio di registrazione bene ma aspetta un secondo qual è il percorso che deve fare per arrivare lì? Quindi io che ho uno studio di registrazione io che sono un tecnico specifico ora non so di cosa tu ti occupi quali sono quegli step che quella persona deve aver fatto o deve fare se vuole arrivare a lavorare con me? Questo è va a tuo vantaggio e a vantaggio della persona del cliente ok? Quindi zero capacità di crearsi delle strutture delle strategie di offerta chiare. Di conseguenza punto numero stavo facendo punto numero 6 punto numero 6 la gestione del cliente ragazzi è disastrosa e voi direte io ovviamente in questo video mi immagino di parlare a persone che già hanno un piede all'interno della produzione magari siete in quella fase da 0 a 1 ma questo vale anche e soprattutto da 1 a 2 cioè non potete farsi faccio un esempio che il cliente entri nel vostro studio nel vostro spazio e poi se un domani una volta che ha finito decide di tornare bene o se no via il prossimo cercherò il prossimo cliente cioè quello che noi diciamo sempre nelle consulenze con chi ha questo tipo di attività è che spesso voi siete seduti col culo su una pignatta d'oro ma non ve ne rendete conto perché perché se tu vai in uno studio di produzione per esempio il loro database è il loro hard disk di backup dei progetti di recording e tu dici ma è possibile che tu non hai un database dove tieni traccia di cosa hanno fatto le persone per cui ha lavorato perché magari che tipo di comunicazione puoi instaurare con loro cosa gli puoi proporre quando glielo puoi proporre con che tipo di strategia perché gli proponi qualcosa perché fai sì che in ultima analisi quella persona che è uscita dal tuo studio dal tuo spazio dalla tua cameretta dovunque sia non torni da te perché lasci che quella persona finisca nelle mani di un competitor questo è un tuo problema ok e questo vediamo essere un punto su cui c'è un disastro totale totale ultimo punto ed è un punto che mi andava di inserire nella speranza di fare riflettere allora quando parliamo di produzione parliamo di catena la produzione è una catena che coinvolge tanti professionisti se non siete dei tutologi ok quindi può generare anche una rete commerciale molto fitta ma i passaggi sono dei passaggi obbligati bene noi vediamo soprattutto nel mondo di oggi che si parla tanto di aspetti verticali ma non si parla di fasi di processi quindi la produzione ha dei processi un processo di sicuramente identitario se voi avete a che fare con un cliente ad esempio un artista ok oppure sei un artista che sta guardando questo video bene dovrai costruire una tua identità sonora artistica produttiva come si costruisce questo quali sono quei passaggi che io devo fare prima di entrare in studio di registrazione a registrare anche solo una nota o una sillaba dovrò fare delle cose bene noi vediamo che da questo punto di vista c'è un livello inquietante quando parliamo di preproduzione o peggio andiamo nello step precedente perché ricordatevi che la fase identitaria è una fase che ci porta poi agli aspetti e al processo di preproduzione prima di andare nella produzione diciamo esecutiva quindi quella che è l'incisione per poi andare nella postproduzione bene è una catena cioè noi vediamo persone che affiancano ok artisti musicisti nella costruzione dei loro progetti che loro stessi non sanno neanche da che parte sono girati da quel punto di vista quindi qui il livello voglio e vogliamo che sia alto elevato cioè sei un produttore artistico bene scala di re bemolle maggiore non la sai grave oppure che tipo di forme adotti quando vai a costruire un progetto sapresti raccontarmi le differenze tra una forma monopartita una forma bipartita una forma tripartita una forma libera ok se ti chiedessi di solfeggiarmi un 4 su 5 un 5 su 4 ok cioè io ora sto andando in aspetti verticali ma questi sono fatti tuoi e sono fatti soprattutto del cliente che si affiderà a te per la sua produzione artistica quindi anche qua non dobbiamo scherzare per quello che io dico stabilire bene i confini del proprio ruolo perché perché noi magari siamo focalizzati e ci possiamo focalizzare in un aspetto specifico della catena e magari quell'aspetto precedente o successivo possiamo delegarlo possiamo collaborare possiamo cooperare ma se non siamo consapevoli di quali sono i nostri ruoli e qual è qual è il nostro ambito e campo di expertise torno al punto uno non ci sono confini e diventa un casino ok quindi poi ci sono le forme di chi tenta di uniformarsi al mercato e quindi noi abbiamo esempi di artisti che ci chiedono per esempio aiuto e tu ascolti i lavori e dici ma perché questa persona ti ha portato in questa direzione ah perché mi ha detto che la top 10 di spotify in questo momento è questa qua ma sei andato da un cretino non sei andato da un produttore artistico non sei andato da una persona che veramente ha in mano le redini della situazione perché perché chi ha in mano le redini della situazione posso garantire che non lavora così e lo dico perché perché ho lavorato con tante persone in ambito produttivo una su tutte cioè ripeto che non lo dico per sbandierare che è Roberto Maccagno che saluta braccio che di grammi ne aveva sei ne ha sei ok quindi sono cose che ho visto non sono cose di cui vi parlo perché voglio fare il fenomeno perché qua allora fare la pecora nera ok è importante questi aspetti sono fondamentali per la vostra per la vostra crescita per la vostra struttura per il vostro divenire per il vostro futuro per il vostro fatturato per la vostra continuità di fatturato cioè dovete veramente rifletterci ok ragazzi se avete necessità avete bisogno voi sapete che vi possiamo aiutare ovviamente respingiamo proprio per tornare al punto di prima per cui predichiamo bene e pensate che roba razioniamo anche bene per cui prima di arrivare a un processo ok conoscitivo si passa e si deve passare degli step perché perché vi dobbiamo qualificare perché se tu sei una persona che non vuole fare le cose in un certo modo che come capita no ma io però di sbattermi non ho voglia ok e qua si potrebbe parlare del problema della neotenia ok ma questo sarebbe un altro un altro discorso forse più sociologico e comportamentale ok magari non sei non hai un livello di competenze di partenza adeguato bene siamo noi primi a dirti che non ti possiamo aiutare ok però se tu sei stufo e vuoi veramente fare uno step avanti pensaci perché questi aspetti devono poi essere esplosi devono essere misurati caso per caso devono andare a costruire un modello specifico su quel modello bisogna fare poi un certo tipo di lavoro ripeto verticale su ogni singola area per costruire quella che noi chiamiamo i modelli quelli che noi chiamiamo i modelli sostenibili ok quindi se volete potete scriverci una mail io ti ringrazio vi ringrazio e vi auguro una serena giornata arrivederci a tutti grazie 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 grazie